Allora salve ragazzi, benvenuti in un altro blog, oggi voglio parlare dell'acqua sporca, cioè dell'inquinamento che c'è a mare, secondo voi perché c'è questo inquinamento, come mai siamo ancora nel 2019, siamo nell'era della plastica, ci siamo accorti della plastica nel 2019, pensate voi, ora dico io, come mai ancora nel 2019, quando per esempio sento persone che si lamentano, qui in questa zona il mare è sporco, c'è proprio la cacca che galleggia, come mai secondo voi, perché non c'è controllo, secondo me, perché io mi ricordo anche da quando ero ragazzino, mi ricordo che scaricavano di notte questi qua e mi ricordo che si vedeva proprio nell'acqua questa schiuma che usciva da questi tombini che andavano a mare, mi si vedeva proprio questa schiuma che entrava in acqua, che ancora lo fanno, perché non ci sono controlli, bisogna controllare di più, dobbiamo pensare anche al mare, al nostro futuro, cioè noi ci andiamo al mare, cioè ci facciamo il bagno, si posso capire che il mare è grande e uno pensa di tanto neanche si inquina, no si inquina invece, come anche la plastica, sono cose che rimangono, che vanno via, comunque ragazzi, penso che sta più a voi, sta a tutti, specie quando abbiamo la sfortuna, sfortuna e fortuna da un lato, di imbatterci in queste cose che a volte capitano di vederle, denunciatele, bisogna denunciarle queste cose, non bisogna stare zitti, se uno vede che in un posto scaricano a mare, bisogna fare una bella denuncia, così solo in questo modo le cose potranno cambiare un giorno, ma se stiamo tutti zitti, poi è meglio non lamentarsi, insomma non ci dobbiamo poi lamentare se l'acqua è sporca, perché se stiamo zitti vuol dire che a noi ci sta bene, a me non mi sta bene, quindi se vedrò una cosa del genere, sarò il primo a denunciare, mi spiace ma io sono fatto così, comunque, mi trovo in questa bellissima piscina, che qua l'acqua è pulita, veramente qua dove mi trovo, è veramente difficile trovare l'acqua sporca, ma è tutta questione di corrente ragazzi, non è questione perché qui è pulita, come può essere sporca qui, può essere sporca dappertutto, quindi è tutta questione di com'è il vento, quindi se oggi per esempio il vento tira da quel lato, sarà sporca da quel lato, 2 più 2 va 4, comunque ragazzi grazie di tutto, non vi scordate di iscrivervi al canale, pollici all'in su e ci sentiamo al prossimo video, ciao ragazzi ciao ciao ciao